E' finalmente partita l'edizione 2021-2022 di Lucidartista, Salerno lo start nel pomeriggio, nessuna cerimonia formale per evitare assembramenti ma sorpresa ad assistere all'accensione, proprio sotto il grande albero di Natale di Piazza Portanova c'era anche immancabile, come ogni anno, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. E' un segno di speranza ovviamente, oltre che un incoraggiamento ai flussi turistici nella città di Salerno. Ovviamente comprendete tutti quanti che questo è un anno di transizione, abbiamo acceso con qualche giorno di ritardo ma sapete che è stato un periodo molto complicato. Mi pare che il risultato sia estremamente gradevole, l'anno prossimo faremo di meglio, mi pare che abbiamo dato un bel segno di incoraggiamento alle attività economiche della città. Adesso dobbiamo solo fare le persone responsabili, come sempre un allestimento estremamente elegante che distingue la città di Salerno da tutte le altre città d'età. E a De Luca fa eco il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Andava tenuta accesa una consuetudine, una tradizione che si è andata consolidando negli anni. E fosse rinvigorita da una tornata di luce d'artista, con una concertazione meno numerosa ma assolutamente efficace. Una tornata interessante e speriamo che l'anno prossimo sarà sfolgorante così come l'era nel passato. Il sindaco Napoli ha poi annunciato anche l'inaugurazione del maxiparcheggio da 700 posti a Piazza della Libertà. E credo che martedì potremo assolutamente dare inizio e inaugurare il parcheggio.